Siamo riusciti a ridurre un debito di 34.000 euro oltre interessi a solo 12.000 euro a rate per un nostro cliente che attualmente ha anche una buona pensione quindi avrebbero potuto attaccare o sulla pensione o anche sull'immobile. Abbiamo fatto una contestazione a questa finanziaria che aveva concesso un credito troppo elevato a questa persona e infatti doveva pagare oltre il 50% della pensione come rata mensile a questa finanziaria. Abbiamo quindi contestato il credito, siamo andati avanti in questo senso e abbiamo fatto un'ottima trattativa a saldo e stralcio riducendo il debito del 70% pagando una rata comoda per le sue possibilità in virtù anche del fatto che aveva anche altri finanziamenti. Non solo a lui abbiamo fatto questo. Per altri nostri clienti da 52 siamo passati a 14 sempre pagando a rate da 70 a poco più di 20.000 euro pagando sempre a rate. Se ci si trova in difficoltà con le banche o delle finanziarie se ci si trova in una condizione di sovraindebitamento c'è la possibilità di andare a ridurre drasticamente le rate e in alcuni casi anche ad ottenere un saldo e stralcio così importante anche pagando a rate in maniera sostenibile. Se ti trovi in una condizione del genere richiedici una consulenza gratuita e link in bio.